ci sono storie che vale la pena raccontare ci sono storie nella quale lo sport nello specifico il calcio è molto di più di un gioco e di una passione ma diventa uno strumento terapeutico è la storia dei ragazzi della polisportiva aurora e dell'incontro con i loro beniamini giocatori della ciprato una storia sulla magia del calcio che è spettacolo divertimento ma anche strumento terapeutico a raccontarla il giornalista di tv prato massimiliano masi da anni volto noto della nostra emittente che si è aggiudicato il premio giornalistico estra per lo sport raccontare le buone notizie nella categoria tv e radio promosso dalla multi utility estra in collaborazione con l'unione stampa sportiva italiana siamo stati in grado di raccontare questa bella storia il racconto dei ragazzi la polisportiva aurora che attraverso lo sport stanno cercando di tornare protagonisti tv prata ancora una volta ha voluto essere veramente vicino alle buone notizie ha voluto raccontare questa notizia con la solita pacatezza con chiaramente anche la voglia di dare un messaggio e penso che questo premio sia veramente importante per tutta la testata che vuol proseguire chiaramente in questo percorso di lavoro e più che altro continuare insomma ad essere vicina al territorio quindi un grazie a tv prato ma un grazie più che altro ai ragazzi la polisportiva aurora che mi hanno aiutato appunto nel poter redigere questo servizio che mi ha fatto vincere questo premio estra per lo sport a consegnare il premio sono stati il presidente di estra francesco macri e michele maffei presidente dell'associazione medaglie d'oro al valore atletico in estra abbiamo il dna della socialità della comunità del territorio e per noi lo sport è un grandissimo veicolo di crescita sociale e importante anche dare spazio alle buone notizie veicolate da una categoria che sono quella dei giornalisti che svolgono gran parte del lavoro perché con la loro attività promuovono i valori positivi dello sport la cerimonia di premiazione presentata dal giornalista di rai sport Jacopo Volpi è venuta stamani nell'esclusiva cornice del circolo canottieri aniene di roma alla presenza di personaggi illustri del mondo dello sport e del giornalismo tra cui Dino Zoff e Gianni Mura che ha ricevuto un premio speciale alla carriera la giuria ha assegnato in totale 11 riconoscimenti tra cui premi speciali e tre menzioni d'onore non è solo sport e spettacolo lo sport è insito anche in un comportamento adeguato nei confronti di chi ha meno fortuna e perciò vi faccio i complimenti un riconoscimento prestigioso per Massimiliano Masi e tutta TV Prato che quest'anno festeggia i 40 anni di attività alla cerimonia rappresenta anche il direttore Gianni Rossi